segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ultimo sgarbi io ho perso il conto delle cose che fa sgarbi e adesso lei è sempre sindaco di sutri è corretto sono sindaco di sutri fino al 15 maggio quando diventerò sindaco di arpino perché ho cambiato in quanto fratelli d'italia ad arpino si candido a arpino non tanto perché avrei fatto anche un secondo mandato anche se non era la mia natura questa fedeltà e questa insistenza in un luogo preferisco andare in luoghi diversi però lì fratelli d'italia ha scelto un candidato e cosa che dovrebbe fare un certo scandalo di casa pound io ho pensato di non misurarmi non mi pare che possa misurarmi non lo ritengo degno di una competizione con me quindi lo lascio tranquillamente lì la città finirà nell'ubrio come tutte quelle in cui io vengo cacciato perché sciolgono il comune per mafia in questo caso fu matteo messina denaro a far sciogliere il comune di salemi e quindi alla fine c'è un dopo sgarbi che è un diluvio senza ribedio invece quando arrivano a una città nuova c'è un divertimento di fare le cose faremo la mostra del cavaliere d'arpino senta sgarbi e poi faccio molti lavori tutti gratuiti come presidente di musei bene sì lei se li ricorda tutti gli incarichi che ha le cose che fa sì 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 io sono presidente di ferrara arte no dico non ha mai consultato qualcuno per chiedere ma come mai mi succede questa cosa che devo stare sempre impegnato e con un impegno nuovo no perché io credo che quando tu hai una grande passione quelli che sono lavori diventano in realtà piaceri e quindi fare una cosa perché ti piace io governo sono presidenza del museo di canova appunto a possagno con grandi mostre in corso dovunque in italia io ho curato ho fatto fare mostre importanti ce ne sono cinque adesso giotto e il novecento klimt e l'arte italiana la mostra di pirandello e altre mostre bellissime al mar di rovedeto sono tutti impegni gratuiti nel senso che se tu fai il parlamentare è l'unica forma di spendere view facendo anche il sindaco non devi essere pagato facendo il consigliere provinciale non deve essere pagato l'unico modo di risparmiare che ogni parlamentare faccia più cose tanto ha tempo per farlo perché il parlamento certo non le impegna grazie a vittorio sgarbi è sempre un piacere sgarbi ci vediamo presto spero qualche minuto